Sentivo che c'era qualcuno che mi ascoltava. Mi dà tranquillità, che io non ce l'ho più. Sono i miei angeli. Chiama il 15-20 della Croce Rossa Italiana. Questo è il Tempo della Gentilezza. Il Tempo della Gentilezza. Domenica scorsa è stata la giornata mondiale della gentilezza e la Croce Rossa Italiana ha rilanciato il progetto Croce Rossa Italiana per le persone e il Tempo della Gentilezza per contrastare solitudine e fragilità. Siamo collegati via Skype con il responsabile centrale di risposta nazionale della Croce Rossa Italiana, il Dottor Massimo Lapietra. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. Allora, ci racconti qualcosa in più di questo progetto, Dottor Lapietra? Sì, intanto il progetto nasce da un progetto finanziato e fatto in collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. In realtà riprende un progetto che la Croce Rossa si era già impegnata nel giugno del 2019 che era riferito solo alle persone anziane. Diciamo che l'esperienza della pandemia, l'esperienza di questi giorni, di questi anni di isolamento, purtroppo ci hanno un po' fatto riflettere sulla necessità di trovare delle soluzioni per essere ancora più vicini a queste persone che, abbiamo visto, hanno costruito una sorta di solitudine involontaria piuttosto che alle persone fragili o alle persone con disabilità e anche ai loro caregiver, cioè a quelle persone che si occupano di queste persone, soprattutto con i disabili, e che molto spesso sono un po' abbandonate al loro destino. Quindi il nostro progetto vuole essere indirizzato proprio a queste persone. Quindi vogliamo provare a migliorare la situazione di benessere di queste persone anziane non sufficienti, migliorare la capacità dei loro caregiver ad essere, a supportare queste persone e anche promuovere una sorta di cultura dell'invecchiamento attivo, quindi della prevenzione della sicurezza, anche attraverso attività di comunità e di sensibilizzazione e poi anche la capacità dei nostri comitati territoriali. Ricordo che noi abbiamo una rete di quasi 700 comitati sul territorio nazionale e oltre 150 mila volontari. Ecco, cerchiamo di fare sinergia per stare vicino a queste persone. Ecco, come diceva lei, dottor Lapieta, è un progetto che era già esistente, che però in qualche modo è stato incrementato durante la pandemia, durante i terribili momenti di buio che abbiamo vissuto. Ci racconti più nello specifico e nel concreto quello che fate? La serie appunto di attività a favore delle persone più vulnerabili. Allora, guardi, noi intanto offriamo già come centrale di risposta nazionale un supporto di telecompagnia alle persone che si rivolgono alla Croce Rossa italiana e anche un supporto di tipo psicologico, l'abbiamo chiamato pronto soccorso psicologico, perché purtroppo questi due anni di Covid ci hanno fatto evidenziato, ci hanno evidenziato il fatto che ci fosse più bisogno di questo tipo di attività. E oltre a questo, naturalmente, abbiamo da giugno installato nella nostra centrale un desk medico che non è già un'attività di telemedicina, piuttosto un'attività che serve ad orientare le persone che si rivolgono a Croce Rossa a un corretto stile di vita, a magari avere qualche consiglio sull'alimentazione. E inoltre, da già due anni, la Croce Rossa italiana ha, nella centrale di risposta nazionale, ha incorporato nella sua struttura una centrale per le persone sorde. Quindi noi, anche le persone sorde, si collegano a una piattaforma, i nostri operatori che parlano il linguaggio italiano dei segni riescono appunto a intercettare i loro bisogni e appunto a cercare di soddisfarli. Questo è quello che noi possiamo fare da centrale. Sul territorio, i comitati territoriali si stanno praticando in diverse iniziative. In questi giorni abbiamo, come dire, visto e esaminato una serie di progetti per fare le tombole. Stiamo portando avanti un bellissimo progetto con il Politecnico di Torino e con il Museo Etrusco di Valle Giulia a Roma per consentire alle persone che, magari per condizioni fisiche e quant'altro, non riescono a regarsi al museo a fare anche questo tipo di attività. grazie alla tecnologia e grazie al nostro responsabile del supporto psicologico stiamo cercando di fare un'attività di comunità che si chiama la piazzetta virtuale. Quindi utilizzando una tecnologia molto facile anche da utilizzare per le persone anziane, cerchiamo di metterli in rete e creiamo un argomento di discussione proprio per favorire la socializzazione. Questo è fondamentale, soprattutto appunto tra le nuove povertà c'è quella della solitudine, questo è innegabile. Quante telefonate più o meno ricevete al giorno? Guardi, mediamente noi facciamo una media mensile di circa 10.000 chiamate al mese che significa che possono essere dalle 3 alle 400 chiamate al giorno a seconda un po' del tipo di giornate e magari di alcune campagne che vengono lanciate. Comunque la nostra media è di circa 300-400 chiamate al giorno. Ecco, quindi appunto richieste che provengono da tutta Italia che poi vengono prese in carico dai comitati territoriali. Ricordiamo nuovamente il numero di pubblica utilità della Croce Rossa italiana, dottor Lapietra. Sì, il nostro numero che è attivo H24, 7 giorni su 7, è il 1520, è il numero di pubblica utilità della Croce Rossa italiana a cui tutte le persone possono rivolgersi per in qualche modo chiedere, anche solo per avere delle informazioni rispetto ai servizi che la Croce Rossa italiana è in grado di offrire sul territorio. Non ci dimentichiamo i trasporti, anche solo fare un accompagnamento di una persona, a fare una visita è sicuramente un servizio che possiamo fare. E poi le ho detto dei servizi che noi possiamo, come dire, in qualche modo assicurare qui dalla centrale che è quello proprio del supporto psicologico e del desk medico, ma di orientamento a, come dire, a una conduzione di buona salute. E allora, ricordiamo il progetto della Croce Rossa italiana per le persone e il tempo della gentilezza. Grazie mille a Massimo Lapietra. responsabile centrale di risposta nazionale della Croce Rossa per essere stato con noi. Grazie tante e buon lavoro. Grazie, grazie a voi, buon lavoro e grazie di questo spazio che ci avete concesso. Siamo sempre a disposizione. Quando ci sono progetti e attività della Croce Rossa saremo contenti di darvi spazio e di poterne parlare insieme. Grazie ancora, buona giornata. Grazie.